Domenica c'era un po' di rammarico, poi vedendo anche quello che è successo, dispiace perché comunque non vuol dire che essendo una provinciale debba comunque subire dei torti. Domenica ci hanno dotto qualcosa, però sentirsi tra le prime sei in Europa mi sa che ancora devono essere sconvitte, fa piacere. Vuol dire che comunque il lavoro che stiamo facendo con il mister e con i compagni sta pagando e sta dando i suoi frutti. Sembra una frase già fatta, ma noi pensiamo solo alla salvezza perché comunque in passato abbiamo, anche l'anno scorso, sembravamo di essere salvi già a gennaio, invece abbiamo subito qualcosa come un sacco di sconfitte e ci siamo trovati a salvarci nelle ultime 4-5 partite. Quindi noi raggiungiamo la salvezza, poi se arriva qualcosa in più lo accogliamo a braccia aperta. Però l'obiettivo nostro è di tenere questa mentalità di salvarci. È una formazione che comunque è in difficoltà, viene da una sconfitta a Flosinone che l'ha penalizzata. Però sappiamo di andare lì e di trovare una squadra ben organizzata che ha voglia di riscattarsi e che sicuramente ci metterà in difficoltà. L'obiettivo è inizio anno, ho tanta voglia di dimostrare, di mettermi in discussione ogni giorno. E quindi sono sempre, ripeto, cerco e spero di farmi trovare sempre pronto. Perché comunque quando hai i giocatori di questo livello devi cercare sempre di stare al massimo. Non puoi sbagliare nulla perché comunque, ripeto, ti giochi il posto con giocatori veramente fantastici e poi c'è una sana competizione. La concerenza fa bene da questo punto di vista? Fa bene sia a me che agli altri perché comunque sappiamo che in qualsiasi momento il mister può contarsi ognuno di noi. Il pensiero nazionale uno lo fa da quando nasce, si cresce con quel pensiero perché la nazionale è il sogno di ogni giocatore. Però il mio pensiero è veramente cercare di dare il massimo per questa maglia perché è grazie a questa maglia che comunque sono rinato e sto in questo stato. Quindi quello che arriva lo accogliamo braccia aperte.